Un benvenuto da parte di Biagio Mannino. Sono molte le valutazioni che vengono fatte in merito alle decisioni prese dalla Corte Costituzionale in riferimento all'obbligatorietà vaccinale. Sono passati pochi giorni, era il 30 novembre quando si riuniva la Corte Costituzionale, il 1 novembre la decisione e che va nella direzione della non illegittimità di quei decreti portati all'attenzione della stessa Corte. Ricordiamo il 2021, un anno molto difficile, seguito dal 2022 un anno ancora più difficile di quello precedente. Le categorie dei lavoratori, in particolare nell'ambito della sanità e l'obbligatorietà vaccinale che entrava progressivamente in quel contesto, un'obbligatorietà vaccinale vista legata soprattutto all'interesse della collettività ma che di fatto andava a mettere da parte quella che è altrettanto importante ovvero la decisione individuale. Problemi che si sono poi mostrati anche nell'ambito delle restrizioni perché lo ricordiamo per chi non accettava il vaccino sostanzialmente c'era l'allontanamento dal mondo del lavoro con la perdita anche della retribuzione. E da qui le valutazioni che in questo momento rappresentano un'attenta analisi perché di fatto attraverso la sentenza della Corte Costituzionale e la non dichiarata illegittimità di quelle scelte prese entrano in discussione delle valutazioni estremamente attente e particolare su anche quelli che sono effettivamente i diritti sanciti dalla stessa Costituzione italiana. Se leggiamo la Costituzione, l'articolo 1 al primo comma, vediamo come l'Italia sia una repubblica democratica fondata sul lavoro. E da qui la questione perché se l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e questa importanza data al lavoro stesso la troviamo ribadita nel primo comma del primo articolo della Costituzione è altrettanto vero che di fronte all'altrettanto importante diritto, quello alla salute, ma anche dobbiamo sottolinearlo un diritto alla salute sia individuale che della collettività ebbene una contrasto si è potuto osservare proprio da quei decreti portati nella direzione delle restrizioni per chi non accettava il percorso vaccinale. Contrasti che hanno caratterizzato il 2021, contrasti che ancora di più si sono visti nel corso del 2022 quando dai primi giorni di gennaio emergeva come quell'obbligatorietà venisse estesa anche agli over 50. Insomma problemi che hanno caratterizzato questo periodo e messo in difficoltà come sostanzialmente i diritti dei cittadini diventino sostanzialmente discutibili. Ed è qua il problema, l'ulteriore problema perché se i diritti dei cittadini vengano messi in discussione allora è altrettanto lecito chiedersi quanto questi diritti possano venire effettivamente tutelati. Problemi di valutazione su quanto è accaduto nel corso del biennio 2020-2022 stanno caratterizzando un po' tutti gli ambiti giuridici nel contesto globale e gli effetti stanno mostrando anche delle sentenze che vanno in direzione sostanzialmente opposta a quella della Corte Costituzionale Italiana, basti pensare alla Corte dello Stato di New York che in questo momento sta prendendo delle valutazioni contrarie. Ebbene anche nello stesso contesto massmediatico italiano le valutazioni sono sostanzialmente discordanti e soprattutto quella componente massmediatica che di fatto appoggiava l'operato del governo Draghi in questo momento continua in quella linea, ovvero a mantenere ferma la posizione di approvazione anche di quanto espresso dalla stessa Corte Costituzionale, contrariamente a chi invece manteneva una posizione particolarmente critica e analitica proprio su quanto veniva portato nel corso di questi ultimi mesi. Quello che sostanzialmente però sta emergendo è che i problemi non sono di fatto conclusi. La sentenza della Corte Costituzionale probabilmente non rappresenta un punto di conclusione ma bensì un punto di inizio perché le questioni vissute nel corso del bienio 2020-2022 vanno probabilmente al di là dell'importanza di una pandemia. Un fenomeno che non dimentichiamo, quello delle pandemie, ha sempre caratterizzato la storia dell'umanità ma che mai era stato affrontato con una determinazione tale da mettere in discussione proprio i diritti sanciti dalle Costituzioni in un contesto globale. La storia in merito a quanto è accaduto probabilmente deve ancora essere scritta e sicuramente le valutazioni e soprattutto le analisi mostreranno dei risultati particolarmente discordanti e soprattutto i confronti potranno arrivare anche a degli scontri interpretativi di quanto accaduto, di quanto sostanzialmente analizzato, di quanto valutato e di quanto poi le diverse corti nel contesto globale andranno ad esprimere. Insomma la parola fine in riferimento alla pandemia di coronavirus sembra essere un qualcosa che probabilmente non verrà mai. Per oggi questo è tutto. Grazie a tutti.